Ripresa e Catania subito è in vantaggio, un perfetto lancio di Mastalli, liscio di Garuti, lo vedete, Cantaruti lascia partire un preciso diagonale, un bel gol sicuramente. Al diciottesimo la botta del knockout, scambio Cantaruti-Crialese, gran parata di Mannini in angolo, batte Luvanor e perentorio il colpo di testa di Cantaruti e la linea a Paolo Valente.